Chi l'ha detto che l'archeologia è noiosa? Con l'archeo Papu diventa non solo un viaggio e una scoperta nell'incredibile patrimonio delle nostre terre, conservato nel Museo Archeologico del Castello di Torre, ma una spassosissima avventura. I Papu, ogni lunedì di luglio, propongono infatti la loro lezione spettacolo, durante la quale illustrano il nostro patrimonio archeologico in modo divertente, come solo loro sanno fare. L'appuntamento, adatto a tutte le età, è alle 18 nella Bastia del Castello. Seguirà una visita all'archeomuseo assieme ai due attori comici. Attualmente, il Parco del Castello ospita anche le installazioni artistiche di Humus Park, opere realizzate da artisti internazionali e locali, utilizzando esclusivamente materiali naturali reperiti sul posto. Ecco allora che una visita al Castello e al Parco, nell'estate in città di Pordenone, diventa un'immersione nella natura, nell'arte, nell'archeologia e nel divertimento. L'assessore comunale alla cultura, Claudio Cattaruzza. Nell'ambito delle manifestazioni dell'estate in città, che oltre ad avere importanti momenti di intrattenimento, seguitissimi peraltro, vorrei rivolgere un invito a tutta la cittadinanza e anche extra a Pordenone, per visitare in maniera profondità i nostri musei cittadini, che presentano delle interessanti mostre. Ricordo in Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato, prosegue con successo la mostra dedicata ad Angelo D'Andrea. Poi al Museo Civico c'è in mostra la donazione fatta da Luigi Zuccheri, che riguarda il ciclo di Santa Caterina e San Francesco. E poi al Museo di Storia Naturale ci sono Escape Nights, una interessantissima mostra che ci mette in contatto con il mondo delle nostre montagne, quasi in un clima da fiaba con dei cieli stellati meravigliosi. E poi in Biblioteca Civica, nella sala esposizione, la mostra delle incisioni di Edoianic. C'è quindi un panorama anche questo abbastanza completo e soprattutto un panorama interessante che pone la nostra città all'attenzione del mondo culturale e non solo chi vorrà partecipare.